Ci sono anche due valdianesi, tra i 50 change maker selezionati nell'ambito del progetto GenC di Agenzia Nazionale per i Giovani a Sciocca Italia, premiati nei giorni scorsi a Roma. Nel corso dell'evento Decidere scelte che trasformano il nostro tempo. Sono Chiara Di Clemente per la categoria Giovani dai 13 ai 25 anni e Domenico Pastore per la categoria Mentor dai 25 ai 35 anni. Insieme ad altri giovani hanno dato vita a Vallo Web Innovation Hub, un progetto che ora è un'associazione senza scopo di lucro, spiegano i ragazzi, che vuole diventare un punto di riferimento per lo sviluppo e l'innovazione nel territorio. La formazione con il coinvolgimento delle scuole, l'accelerazione per realizzare progetti innovativi e la corporate innovation per supportare lo sviluppo, la crescita e la digitalizzazione delle imprese sono le principali aree di attività di Vallo Web Innovation Hub. Dopo la premiazione a Roma, i ragazzi hanno espresso la loro soddisfazione. Siamo onorati di essere stati selezionati tra i 50 changemaker italiani come protagonisti del cambiamento del nostro paese. Ufficialmente affermano entriamo come giovani changemaker nel progetto Changemaker, una comunità di giovani protagonisti per il cambiamento del domani. Abbiamo condiviso con decine di ragazze e ragazzi la nostra esperienza e abbiamo ascoltato le storie di chi non si è mai arreso, di chi ha ribaltato il senso incompleto e spesso distorto di tante etichette che negli anni sono state assegnate alle nuove generazioni, principalmente per chi nasce e cresce nel mezzogiorno d'Italia. Infine i ragazzi di Vallo Web Innovation Hub lanciano un appello ai giovani. Abbiate il coraggio di inventare nuove regole per il mondo che vi circonda. Non lasciatevi intrappolare in una realtà troppo stretta e obsoleta. Abbiate il coraggio di intraprendere un percorso di trasformazione così da divenire voi i prossimi changemaker e protagonisti del futuro del nostro paese.